Un gravissimo incidente sul lavoro in centro storico a Lucca è costato la vita a due operai di 54 e 61 anni. Il fatto è accaduto in via Vittorio Veneto, a due passi da una piazza a San Michele affollata di turisti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due operai a bordo di un'autoscala della ditta Morelli stavano posizionando i porta lumini per la processione di Santa Croce ai piani alti di Palazzo Pretorio. Per cause ancora in corso di accertamento, la parte superiore del pistone idraulico del mezzo ha ceduto di schianto e il cestello sul quale si trovavano i due è precipitato a terra da un'altezza di circa 10 metri. L'impatto non ha lasciato scampo ad Eugenio Viviani, di 54 anni, residente a Santa Maria del Giudice, che è morto praticamente sul colpo. Il suo collega Antonio Pellegrini, 61 anni, di Lammari, è inizialmente sopravvissuto ed è stato portato all'ospedale San Luca, dove però è morto pochi minuti dopo il suo arrivo. Nessun passante è rimasto coinvolto nell'incidente e sono state proprio alcune persone che si trovavano sul posto a fornire la prima sommaria assistenza ai due. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. C'era anche il personale del Dipartimento del Lavoro della ASL, che dovrà chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.